Il rasoio del barbiere Splendono nei loro colori le piume, brilleranno i bottoni. Le scarpe non devono sfigurare anche perché il particolare passo di parata permette a chiunque di osservarle con attenzione. La sfilata è in onore dei nuovi reggenti che stanno per essere insediati. Per loro si alzerà la bandiera sul balcone del palazzo. I magistrati uscenti compiono il giro della città che è quasi intero il territorio del loro stato. Il cambio dei capitani ha luogo ogni sei mesi. I rappresentanti diplomatici inglesi e americani assistono alla cerimonia nella sala del consiglio. I nuovi eletti giurano fedeltà, dopodiché ricevono le chiavi della Repubblica. Riti da antico comune italico in una cornice di spirito democratico.